Il tour nelle parrocchie e città dell'agro del Vescovo della Diocesi Nocella Sarno, Monsignor Giuseppe Giudice, continua tra messaggi e richiami all'unità. Insieme, questo territorio può crescere e raggiungere obiettivi importanti, mostrando i suoi tanti aspetti positivi, certamente più di quelli negativi. C'è una piccola, anche se rumorosa, sacca e non ci riferiamo a una specifica fetta di popolo, a giovani o meno giovani, ma ad un contesto generale che spesso ci spiazza e crea disagi nel disagio. Una sacca che va contestualizzata e va soprattutto aiutata per prevenire eventuali problemi. Il Vescovo ha dunque richiamato tutti gli attori della nostra società a lavorare insieme a fare rete. Non si può camminare da soli. Io sto dicendo in tutta la vista pastorale poche cose fatte bene insieme. Purtroppo tante cose fatte male uno contro l'altro. Poche cose fatte bene insieme, perché le cose essenziali sono poche. Sto dicendo da un po' di tempo, io parlo della terra dell'agro, la città dell'agro, capisco le difficoltà, però né a livello ecclesiale. Una parrocchia potrebbe avere anche tutte le capacità, ma se cammina da sola, senza la comunione col Vesco e con le altre parrocchie, non fa pastorale. Io penso che è arrivato il tempo per questa zona che ha tante possibilità, ha tante eccellenze, ha tanti sottoboschi di cose positive, con sottoboschi anche di fragilità, di difficoltà e il tempo di pensare insieme. Monsignor Giudice ha voluto di nuovo sottolineare l'importanza di un agro da leggere come corpo unico e non scisso singolarmente, puntando l'indice anche contro quei politici che puntano ai personalismi, ai narcisismi, soltanto per curare il proprio orticello, i propri interessi. Di camminare insieme, mettendo da parte alcuni particolarismi, alcuni narcisismi, perché non è possibile che ancora oggi si alza qualcuno, cambia un nome e fa un altro gruppo politico. Questo non è possibile, perché vuol dire che si pensa al piccolo progetto personale, dimenticando il mosaico di tutti.